Non ridire più nulla Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, l'uno e i molti, Viola Fratello, sorella, nel momento in cui tu imparerai a non ridire più nulla su nessuno sarà perché avrai compreso che tutto quanto ti circonda, che tutto quanto tu osservi, che tutto quanto fa parte della tua realtà è così perché così deve essere è così perché solo così puoi insegnare qualcosa a te, a tutti i fratelli, a tutte le sorelle che ti sono accanto è così pur nella sua crudeltà perché è giusto che sia così perché il cammino che tu e tutti i tuoi fratelli e le tue sorelle dovete compiere passa anche attraverso quella sofferenza e quando saprai trascendere quella sofferenza, fratello quando saprai superare tutto quel dolore, sorella allora sì che potrai dire di aver compreso la vita e di esserti avvicinata all'amore vi amo sorelle, vi amo fratelli e che la pace sia con tutti voi moti questo non significa che voi dobbiate accettare tutto ciò che accade anzi lottate per ciò in cui credete lavorate quando sentite l'impulso di lavorare per ciò che ritenete giusto porgete una mano anche nei casi in cui gli altri la ritraggono se sentite all'interno la spinta a farlo non risparmiate nulla di voi stessi per modificare il mondo perché anche se è vero che ciò che porterà il domani è scritto questo non significa che esso non sia nato come conseguenza di ciò che voi fate oggi la pace sia con tutti voi figli grazie a tutti grazie a tutti